Se stai cercando un appartamento a Castle Novo di Sotto, completamente ristrutturato, questo fa il caso tuo. Vieni a scoprirlo con me. Eccoci all'interno dell'appartamento, dove troviamo un grande soggiorno con cucina abitabile che ha accesso al balcone, due camere da letto, di cui una matrimoniale, bagno e un ripostiglio. Come avete potuto vedere l'appartamento è stato curato nei minimi dettagli grazie ai lavori di ristrutturazione. Inoltre è dotato di cantina e garage. Quindi se questo appartamento fa il caso tuo vieni a trovarci in ufficio a Castle Novo di Sotto in via 25 Aprile oppure contateci al numero qui sotto. A presto!